Aveva rubato un tablet nel punto vendita Media Ward di Avezzano ma gli è andata male perché è stato riconosciuto dal personale di vigilanza di Media Ward dell'Aquila fermato dalla polizia della questura aquilana e denunciato così all'autorità giudiziaria. L'uomo, un pregiudicato di origine romene, è stato riconosciuto mentre si aggirava nel punto vendita aquilano il 13 marzo scorso a seguito della diffusione delle immagini delle telecamere di videosolveglianza che il negozio di Avezzano aveva aggirato a tutti gli altri punti vendita presenti sul territorio. Il personale di sorveglianza del centro commerciale, quando si è reso conto che l'uomo andava tranquillamente in giro all'Aquila, ha segnalato la presenza al 113 che è prontamente intervenuto. L'uomo è stato denunciato in stato di libertà.